Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi i miei nuovi acquisti soprattutto di cotone perché di lana ho preso solo un tipo. Allora iniziamo subito con la lana così almeno vedete subito qual è, tanto è solo un modello ed è questo colore che viene chiamato bronzo antico, è molto molto carino. Allora vabbè 50% lana e 50% acrilico, ho lavorato con i ferri del 5, del 5 e mezzo, volendo anche del 6 perché comunque è abbastanza grosso, vi faccio vedere, vedete è comunque un filo abbastanza grosso ed è lungo 115 metri quindi comunque è una bella lunghezza. e poi così grossi non ne ho tantissimi quindi questo marroncino qui mi piace molto comunque è un bronzo appunto antico viene chiamato proprio perché ha questo colore un po' un po' antico ecco come marrone comunque è molto molto carino. Poi passiamo invece al cotone, il cotone questa volta non è totalmente cotone per dire ho trovato questa qui che è da bambini, viene chiamata fiocchetto perché adesso vi faccio vedere vedete com'è fatta, è tutta molto molto particolare ed è bellissima per i bambini sia per creare copertine sia per fare proprio anche magari vestitini perché è comunque talmente particolare che vestitini, maglioncini, gonnelline adesso per l'estate ci si può sbizzarrire insomma e questa qui è molto bella perché non c'è bisogno di punti particolari perché già di per sé avendo questi fiocchettini che escono tutti colorati rende già particolare il lavoro che si va a creare questa è un 70% cotone e 30% acrilico che poi non è del tutto vero sì sì no questa sì scusate questo è 30% acrilico sì perché questi fiocchettini sono fatti probabilmente con una cosa però è bella, è morbida anche se dentro l'acrilico, lo ripeto, l'acrilico dà soltanto sì in piccole quantità chiaramente perché se fosse 100% acrilico non mi piacerebbe, non l'avrei neanche preso in piccole quantità l'acrilico dà più resistenza al lavoro soprattutto ai lavori fatti a maglia o a uncinetto che comunque come sapete sono dei lavori molto delicati quindi diciamo che se fosse 100% lana avrebbero una resistenza minore, inferiore insomma invece così i vostri lavori sono più protetti e risultano più resistenti e questo è il primo che è molto molto carino per i bambini secondo me veramente a farci vestitini, gonnellini, maglioncini di tutto ci potete fare perché è veramente molto grazioso e anche le inesperte visto che comunque non c'è da fare una grande lavorazione ma secondo me già con una maglia a legaccio quindi tutto a diritto, tutto a rovescio quindi anche le principianti riescono magari a fare maglioncini, gonnelline proprio perché va fatto proprio semplicissimo passiamo invece a quelli che ho tanto richiesto io dove vado a prendere la lana perché io adoro come voi sapete i glitter tutto ciò che è glitter, tutto ciò che è lame tutto ciò che riguardano queste tutto quello che insomma luccica mi piace tantissimo quindi vorrei partire da questi allora sono dei mulinè quindi sono variegati hanno dentro più colori e allora inizio da questo questo c'è dentro il bianco chiaramente poi ha dell'azzurro e dentro dell'argento non so se io in telecamera riesco a farvi vedere quanto luccica questo cotone perché sapete che con la telecamera si fa veramente fatica però è veramente luccica tantissimo perché dentro questo argento mi sa che lo vedete meglio nelle foto stavolta ho fatto le foto prima e mi sembra che siano venute abbastanza bene anche come i colori poi chiaramente ve li mostrerò poi per chi le vuole vedere le foto perché nelle foto io metto tutto i prezzi metto quanto è lungo metto la com'è la formazione diciamo del gomitolo quindi il fatto che è 70% cotone piuttosto che e scrivo veramente tutto quindi se chi è interessato basta che mi contatti su facebook privatamente e mi scrivete che volete mi scrivete che volete mi scrivete che volete delle informazioni di spunto sulla lana sul cotone e io vi invio i file con tutte queste con le foto dei gomitoli che ha a disposizione e prezzi codici vari e questo è quello azzurro poi ce n'è uno questo qui è anche molto molto bello e questo ah non vi ho detto però vabbè tanto le informazioni di questi quattro gomitoli che vi farò vedere adesso sono tutti uguali perché sono la base è tutta uguale l'unica cosa che cambia sono i colori quindi questo qui questi gomitoli qui hanno 80% cotone 20% acrilico e 10% no ho sbagliato sono 80% cotone 10% acrilico e 10% lame quindi questa è formata da una base bianca poi ha una viola lilla e all'interno ha delle lame dello stesso colore quindi sul violettino ed è veramente lucicosissimo mi dispiace soltanto che purtroppo in telecamera io non credo che riuscirò più di tanto a mostrarvelo perché è veramente luminoso perché ha tutto questo glitter che forse magari qualcosina si vede ha tutto questo glitter appunto che purtroppo veramente faccio non so che tipo di inquadratore fare per poter mostrarvi quanto quanto lucica però io penso che anche un minimo riuscirete a vederlo comunque penso comunque è bellissimo ma nelle foto vedrete che si vedrà molto di più anche il colore in sé del viola che è bellissimo sicuramente riuscirete a vederlo molto molto di più poi lo stesso lo stesso tipo quindi la stessa metratura questa è la metratura che sono 105 metri si lavora con 4-4,5 quindi volendo si può anche lavorare con il 3,5 dipende da che tipo di mano avete comunque già con il 4-4,5 va benissimo questo invece ha dell'oro dentro come la me e chiaramente base bianca e ha dei fili verde chiaro verde leggermente più bello ma dalla foto purtroppo questo invece non rende tantissimo ma vi assicuro che oltre a essere molto luminoso perché l'oro che ha dentro veramente lucica tantissimo dovete fidarmi di me perché purtroppo vedrete che anche questo dalla telecamera non riuscirò più di tanto a farvelo vedere perché sapete che la telecamera ha anche questa un po' storchi ai colori però vedete che già riesco a mostrarvi forse già di più il fatto che lucica però non nonostante tutto che un po' si vede non rende quanto veramente lucica dal vivo ok ultimo colore che ho preso al momento ma penso che tra un po' appena mi chiamano che è pronto quello che gli ho chiesto lo vado a ritirare adesso non so in quanto tempo riusciranno a darmelo comunque è questo è bellissimo infatti io credo che con questo qui andrò a fare penso magari il un coprispalle un coprispalle a manica corta perché è un bianco chiaramente c'è dentro il bianco poi è dentro del beige e la me oro che col beige sta da dio perché sembrano tono su tono che lo rende veramente veramente luccicoso ma tutti sono luccicosi questi quattro componenti che vi ho detto quello blu ha dentro l'argento quello viola ha il lame dello stesso colore quindi sul viola e quello verde e quello ho un beige quindi oro beige io l'ho chiamato oro beige ha dentro vedete che già così riesco forse già vedete tanto che comunque nonostante la telecamera non renda già vedete come luccica vedete che si vede tantissimo comunque nonostante la telecamera fa un po' sfifo che non vi mostra veramente l'effetto che ha questo dal vivo questo questo cotone sinceramente veramente veramente sono tutti e quattro molto luminosi questo forse sono riuscita a farvelo vedere un po' di più perché boh forse perché è chiaro che risulta di più loro e quindi lo vedete meglio dalla telecamera però veramente sono luccicosissimi infatti con questo qui penso che mi farò un copristalle che chiaramente mostrerò poi quando lo farò ma bellissimi bellissimi anche questi due secondo me quello viola e quello verde sempre anche per gli adulti e questo qui da bambino ma anche per bambini cioè anche comunque per cose che è bianco e blu magari se vi piace il blu va benissimo anche su di voi se invece preferite altri colori magari per gli adulti consiglierei questi tre colori qua quindi il verde l'oro e il bianco e quello blu magari anche per bambini bambine insomma però avendo messo dentro anche l'argento va benissimo anche per noi questo qui e infatti mi dovrò sbizzarrire un po' nel vedere cosa fare insomma con questi gli ho chiesto se me lo fanno anche semplicemente bianco e oro perché io l'ho visto è bellissimo anche solo bianco e oro quindi probabilmente più avanti arriverà anche solo bianco e oro però questo qua io me ne sono innamorata di questo qui questo più verde e questo più viola li adoro li adoro tantissimo perfetto io credo di avervi detto più o meno tutto riguardo questi sei tipologie di cose che ho comprato quindi cinque di cotone e uno di lana calcolate che tutti i gomitoli di cotone vengono venduti singolarmente a 1,60 euro mentre quello di lana questo bronzo antico viene 1,60 però se ne comprate 10 anche con altre tipologie di lana del genere che costa 1,60 ma che c'è la possibilità di averli anche 10 gomitoli a 1,50 euro anche questo volendo si può avere a 1,50 euro con 10 gomitoli magari misti con gli altri che hanno appunto questa tipologia di questa possibilità di avere lo sconto diciamo se se ne prendono 10 quindi potete mischiarli con gli altri e se non vi servono 10 di questi potete tranquillamente fare un mix mentre appunto il cotone viene venduto singolarmente a 1,60 euro perché voi sapete che comunque il cotone anche fuori a parte che ho la me costa sempre di più però anche fuori comunque già normale un cotone normale senza niente senza anche sulla tinta unita mi costa le 2,50 euro in su a meno io a meno di 2,50 euro non l'ho trovato mi hanno detto addirittura anche 3 euro quindi poi non so altri prezzi non li so anche perché ultimamente non comprando più fuori non so più bene di preciso i prezzi che ha il cotone fuori perfetto io spero che anche questo video vi sia stato utile che vi piacciano le cose che ho preso ripeto per se siete interessati per l'acquisto mi potete tranquillamente contattare su facebook tramite monica furia mi trovate o comunque sotto al link nel box cioè sotto al video nel box di informazioni io vi scriverò comunque il link della mia pagina facebook e di facebook perché sapete che io ho creato una pagina per voi che mi seguite che si chiama appunto creazioni maglie uncinetto e sempre su facebook e comunque vi lascerò tutti e due i link mi potete contattare lì in posta privata mi raccomando non qui sotto ma su facebook perché ogni tanto mi scrivete ancora qui per la lana e io risponderò soltanto su facebook in privato quindi anche perché su facebook vi posso inviare tramite posta i file con le foto ok quindi con le foto vi potete guardare con calma magari con la foto magari riuscite a vedere meglio i colori e quindi riuscite anche a guardarvi con più calma anche i prezzi magari che magari io qui dico o le lunghezze così invece lì è tutto scritto e ve le potete studiare con tranquillità quindi mi contattate lì e io vi mando se volete le informazioni con un file world dove appunto ci sono le foto e tutte le informazioni varie perfetto io per questo video è tutto presto sicuramente ne farò un altro con altre cose nuove cerco sempre di essere aggiornata di avere sempre cose novità in modo da contentare tutti e spero veramente veramente tanto di sentirvi su facebook perfetto un bacione a tutti un bacio e alla prossima ciao ciao